Settembre ci regala uno dei miei frutti preferiti, i fichi, un frutto meraviglioso che amo usare per la preparazione di primi secondi salati e dolci. Per questo mese ho deciso di preparare 4 ricette con i fichi. La prima ricetta che farò oggi sarà una bruschetta con mascarpone, gorgonzola, fichi, prosciutto crudo, nocce e miele. Le successive prossime 3 ricette saranno in ordine. Un risotto gorgonzola e fichi, delle sgarroppine sempre gorgonzola e fichi e come quarta ricetta una crostata settembrina farcita di crema di fichi. Passo subito alla preparazione della bruschetta. Mascarpone, gorgonzola, prosciutto crudo, fichi, miele e noci. Che dite? La prepariamo insieme? Inizio col tortostano e pane. Fermi un attimo! Se le mie ricette vi piacciono iscrivetevi al canale. L'avete fatto? Grazie! Continuo con la ricetta. Con un filo d'olio sopra. Lo giro e metto l'olio anche a questo lato. E' pronto lo spagnolo. Unisco 50 di mascarpone e 50 di gogonzola. Cerro. S porqui. S porpu. Spalmo sulla fetta di pane il gorgonzola e il mascarpone. Grazie per la visione! Sopra metto una fettina di prosciutto crudo. I fichi li ho presi di due colori diversi e li taglio in quattro parti. I fichi li ho presi di due colori diversi e li taglio in quattro parti. E li ho presi di due colori diversi e li taglio in quattro parti. Aggiungo del miele sopra. Ho tagliato grossolanamente delle noci e le metto sopra. Musica 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 Musica